Vediamo qualche esempio del valore del momento di inerzia per alcune geometrie tipiche elementari. Supponiamo di avere una massa M concentrata in un punto a distanza R rispetto a un asse di rotazione. In questo caso il momento di inerzia è dato dal prodotto della massa, la massa M è espressa in kg che possiamo chiamare una massa puntiforme per il raggio al quadrato, cioè la distanza della massa dall'asse di rotazione al quadrato. La massa puntiforme risulta essere quindi concentrata. Che caso pratico si può presentare questa tipologia? Ad esempio il caso di un corpo che viene fatto... Intanto concentriamoci un attimo sulla relazione fra il raggio e il momento di inerzia. Abbiamo, essendo una dipendenza quadratica, che se il raggio raddoppia, passa da R1 a 2 volte R1, il momento di inerzia diventa 4 volte più grande. Quindi raddoppiando la distanza della massa dall'asse quadruplica il momento di inerzia. Stavo dicendo in che casi pratici si può presentare questo caso tipico. Ad esempio quello di un corpo che viene sollevato o abbassato utilizzando una puleggia o una carrucola che gira intorno all'asse, questo rosso che sto indicando qua, e con una catena o un cavo abbiamo un peso, una massa M, quindi con un suo peso P, sospeso appunto alla puleggia o alla carrucola. Dichiamo così schematicamente la massa M, come questo corpo che viene legato e sospeso alla nostra carrucola di raggio R, questa massa M, la possiamo immaginare concentrata, è applicata a distanza R, dove R è il raggio della carrucola, rispetto all'asse di rotazione della stessa. Quindi questo è un caso tipico in cui utilizzare questo momento di inerzia R, appunto come vi dicevo, il raggio della carrucola o della puleggia con la quale viene movimentato il corpo di massa M, che per semplicità consideriamo concentrato puntiforme a distanza R dall'asse di rotazione, momento di inerzia, appunto quindi abbiamo detto M per R al quadrato. Vediamo adesso alcuni altri esempi tipici, ad esempio quello di un cilindro cavo di spessore trascurabile, quindi un cilindro cavo dove la massa M risulta concentrata lungo, sulla superficie esterna del cilindro. In questo caso trascuriamo lo spessore del cilindro stesso e abbiamo che il momento di inerzia, in questo caso è, come precedentemente, uguale al prodotto di M per il raggio al quadrato. Continuiamo con i nostri esempi. Nel caso del cilindro invece pieno di raggio R, quello che abbiamo utilizzato, ad esempio, per schematizzare il rotore del motore, quindi un cilindro pieno di densità uniforme, in questo caso il momento di inerzia J è dato da un mezzo M per R al quadrato. Quindi vedete, confrontandolo col precedente, a parità di massa e di raggio del cilindro, il momento di inerzia del cilindro pieno risulta alla metà di quello del cilindro cavo, il cilindro cavo, appunto, avendo la massa concentrata sulla superficie esterna del cilindro, presenta ovviamente un momento di inerzia maggiore a parità di massa. Adesso il caso invece del cilindro cavo, sempre cavo, ma di spessore non trascurabile, quindi avremo due raggi, uno interno R1 e uno esterno R2, in questo caso il momento di inerzia è dato da un mezzo M per R1 quadro più R2 quadro, quindi il cilindro è sì cavo ma ha presente uno spessore che non viene più trascurato, dato dalla differenza fra i due raggi R2 ed R1. Continuiamo nei nostri esempi, mettiamo in evidenza è stato qua le dimensioni geometriche del cilindro cavo, consideriamo una sfera piena, quindi di massa M con densità uniforme, in questo caso il momento di inerzia J è dato da due quinti della massa per il raggio della sfera al quadrato. Altri casi si trovano tabellati per risolvere situazioni schematicamente diverse.